L'AKP ha deciso di convocare un congresso straordinario dove sarà eletto il nuovo leader del partito. Con questo congresso del 22 maggio l'era della leadership di Davutoglu nell'AKP si chiuderà. Cosa succederà alla Turchia, al governo e al partito? Lo chiediamo al nostro corrispondente a Istanbul, Bora Bayarakht. Bora, perché Davutoglu ha deciso di lasciare la leadership del partito? Qual è l'atmosfera nell'AKP? Nelle settimane, soprattutto, ci sono state controversie su diversi argomenti e c'era il sentore che il presidente avrebbe preferito lavorare con un premier a lui più vicino. La frattura più importante tra i due deriva dal fatto che, secondo fonti presidenziali, quando Davutoglu è stato scelto come primo ministro, ha promesso ad Erdogan di lavorare su due importanti questioni. Una era quella di mettere in pratica il sistema presidenziale, preparare l'opinione pubblica a questo e organizzare la relativa regolamentazione costituzionale. Su questa questione il premier ha ripetuto diverse volte che era meglio che passasse del tempo. Come seconda cosa, il presidente si aspettava dei progressi nelle operazioni contro gli individui legati a Fethullah Gulen, considerato appartenente a una struttura terroristica. Alcune fonti hanno rivelato che il presidente non era soddisfatto. Cosa succederà nel governo e nell'HKP adesso? Come sarà scelto il nuovo leader del partito e anche il nuovo premier? Ci sarà un congresso straordinario del partito e sembra che dopo aver parlato con Erdogan si accorderanno su un solo nome a lui più vicino e quello diventerà il nome dell'unico candidato per la leadership nel congresso. Dopo che avranno scelto il leader del partito, Davutoglu si ritirerà dalla carriera di premier e il presidente affiderà l'incarico di formare un nuovo governo al nuovo leader del partito. Quello che ci si aspetta da questo nuovo corso è che il presidente controllerà più fermamente il partito e che quindi dirigerà le riunioni del Consiglio più frequentemente e in maniera più efficace. Non credo ci si debba aspettare molti cambiamenti. La Turchia è stata governata da questo partito negli ultimi 14 anni e sembra che continuerà a seguire la linea politica dettata da Erdogan a partire dal 2002. Inoltre non sembra che assisteremo a dimissioni di massa, rotture o divisioni all'interno del partito. Quello che conta di più ora è la posizione di Davutoglu e dei suoi sostenitori che sembrano però avere accettato di buon grado e serenamente la sua decisione di fare un passo indietro. Anche con la sua decisione di farlo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.